Purtroppo Fano ha ufficialmente perso i 20 milioni di euro che dovevano essere spesi per la variante Gimarra. Abbiamo tentato in tutti i modi di recuperare queste risorse per investirli sulla Federiciana, che è un progetto visionario redato da Cucinella anche con il supporto del Cavalere Montanari. Però è chiaro che l'investimento che abbiamo proposto, gli altri 10 milioni erano per la rigolificazione del Ministero, non sono stati accettati dal MIT e quindi fanno, oltre ad aver perso i 20 milioni di euro, dovrà restituire i 2 milioni di euro che la precedente amministrazione aveva preso per lo studio di fattibilità e quindi la progettazione della famosa variante Gimarra. Un progetto scellerato, che l'abbiamo sempre purtroppo definito così, per la quale ci sono dei protagonisti, degli attori che sono l'ex vice sindaco Fanesi e anche l'ex consigliere regionale, e oggi consigliere regionale Renato Claudio Minardi, che aveva candidato proprio Cristian Fanesi sindaco e alla quale rivolgo, visto che oggi ci sentiamo sentire la predica su tanti investimenti che la regione sta mettendo in atto, come l'ospis pediatrico, piuttosto che il nuovo ospedale, la nuova palazzina emergenza urgenze, che cosa ne pensa dell'ex vice sindaco che ha perso il più grande finanziamento che la città di Fano aveva ottenuto. Quindi oggi diamo questa brutta notizia, noi non vogliamo perdere l'investimento sulla biblioteca federiciana, quindi oggi abbiamo pubblicato l'avviso per trovare sponsor importanti, milionari, per realizzare quest'opera. Lo scopo di reperire finanziamenti utili per la realizzazione dell'intervento di restauro e ricostruzione anche di parte della biblioteca federiciana, è stato pubblicato ieri un bando che si trova pubblicato all'albo del comune di Fano e questo bando contiene tutte le indicazioni per poter partecipare a questo finanziamento. Rimarrà pubblico per 30 giorni, quindi le domande di partecipazione devono intervenire entro il trentesimo giorno, da ieri e in questo bando sono contenuti criteri, quindi vengono anche classificati su categorie diverse. Si chiedono partecipazioni che siano superiori alla quota dei 2 milioni e che a seconda delle categorie vedranno corrisposto un periodo diverso di contratto di sponsorizzazione, perché lo scopo è proprio questo, di riuscire a realizzare la raccolta di finanziamenti pubblici in cambio della possibilità di utilizzare l'intera opera come sponsorizzazione, eventualmente utilizzando anche la possibilità di realizzare il diritto di denominazione, la possibilità di utilizzare la comunicazione, la promozione e il ritorno d'immagine anche associato al nome, al logo, al marchio dello sponsor. È previsto anche che sia possibile unire più soggetti o pubblici o privati per raggiungere la cifra minima di sponsorizzazione.